Sì, sempre guai il manichino, no? Quello delle happy birdies. Del buon compleanno. Ti sarei portato dietro, no? Ti sarei portato dietro il manichino. in effetti devo trovare una cosi una moneta antica che dobbiamo fare? chiave clown che stai facendo? c'è stato un movimento chiave? no ma di troppo è morto sto cosino c'è un out eh questi non muovono un colpo in effetti solo due ne troviamo morti che cazzo clown devono darci i porti a te drop questo è coso eh da qua fino all'ultimo no? niente dai siamo morti stai bene ovviamente siamo morti sto arrivando troppo semplice mi ha fatto una cazzata ehi stai bene tieni duro sto arrivando dobbiamo trovare qualcosa per disinnescarla qualcosa per disinnescarla qualcosa per disinnescarla qualcosa per disinnescarla che cosa però spariamo scappiamo in aria ci spariamo munizione fiscile eh che dobbiamo fare di qua ci possiamo andare ah qua c'è l'interruttore della corrente ah qua c'è l'interruttore della corrente perfetto verso il vaso non cadiamo noi ehi ehi ci sei ancora? si sei sei tu grazie temevo ci avessero abbandonato credo che l'uscita sia di qua credo che l'uscita sia di qua lucas è un fottuto psicopatico non so cosa sia peggio lui o quelle creature dobbiamo andarcene ci fa esplode ora no? di qua possiamo uscire usando le scale oh cristo non può essere cazzo cazzo togli quello di dosso no esplode t-shirt non so te ma sono davvero stanco di questi giochetti tre uomini lucas tre dei miei uomini sono morti a causa tua ora basta finisce qui non credo proprio presto ci saranno quattro soldatini morti fallirai miseramente e poi tu finirai per voi ok abbiamo un problema qui vediamo cosa fare vai alla caverna centrale attendi nuove istruzioni mi credo di te mi credo di te ok vaffanculo sto cosa ok ho messo nella posizione giusta chius chius i video della prima unità mostrano dei fusti di azoto liquido nelle vicinanze potresti disattivare la bomba congelandola dove sono i fusti sono stoccati nella zona di estrazione passa dalla serranda rossa qui non changed�네 changed non C'è tanto niente C'è tanto niente Non 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 c'è tanto niente Toglitelo prima che riprenda a funzionare Non c'è tanto niente Non c'è tanto niente Non c'è tanto niente Tu sai cosa assurda Tu vuoi accelerare Il saldo liquido Mi sto giusto in questa caverna Niente Dobbiamo scendere giù Allora Siamo arrivati diciamo Nella sala principale Ma ci va almeno a salvare Ok Andiamo a aprire queste gabbiette Asteroidi 3,2,1 Manca l'ultimo E' un po' Che c'è? Ma che è questa cosa? Una cosa aliena Non mi spesso sentiva aliena Non mi spesso Senta di qua C'è pazzesco C'è pazzesco Christopher Sei ancora vivo Impressionante amico mio Davvero impressionante Vediamo quanto riesci a pressionarmi Realmente C'è Non fa controllare questi monstri C'è C'è Noi C'è O sei in gamba O molto fortunato Vogliamo prima di scoprirlo C'è 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 Che successe? Se vuoi uccidermi, fallo e basta! No! Non si può fare niente! Non si apre! No, sai quanto mi piacerebbe vederti arroschire! Che apre! Ah, non la devo pulire a te! Vai, vai! Capiamo sopra! Vieni! Il caos degli ultimi welli! Non voglio pulire qui Come! Iti siamo quasi! ah si sta aprendendo la stessa ok ebbene scampato ebbene 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 pazzesco che stavamo morendo male stavamo morendo male stavamo morendo male chris stai bene? si tutto ok abbiamo intercettato un'email inviata da lucas senti qua l'umbrella e redfield sono sistemati mi hanno fatto perdere un po' di tempo ma gli è costato caro posso ancora procurarvi dati ma dopo me la squaglio mi crede morto può essere un vantaggio ma chi l'ha inviata? la stiamo decrittando tu pensa a lucas aggiornami non abbiamo niente qua un po' di tempo un po' di tempo volevo solo comunicarvi che questi pochi secondi sono senza audio perchè questa qui dovrebbe essere la terza parte del DLC mentre la serie l'ho solo divisa soltanto in due parti quindi tutto ok ok allora siamo arrivati in questo laboratorio di ricerca e vediamo un po' di tempo vediamo un po' di tempo e vediamo un po' di tempo vediamo un po' vediamo un po' vediamo un po' di tempo vediamo un po' di tempo vediamo un po' di tempo Ovviamente non ci fanno paura, ormai siamo a metti fin ai denti. Regista di meteorologico deve esemplare, eh, condizioni di salute buone, condizioni psicologiche non è la norma, insacrezioni, molta vicenda, non è la norma, insomma... Eh, con le bambole, non è la giornata di tenere una cosa. Meglio sarebbe Evelyn. Sbossatezza, condizioni psicologiche, stress... Eh, elevato! Sbossatezza muta e citena! Sbossatezza, improvvisamente segni di invecchiamento, perdita di peso, e di massa muscolare, raduto di capelli, vomitamenti, condizioni di salute debole ma stabile. Sbossatezza, belle cose, condizioni di salute debole ma stabile. Diciamo, è un registro. E chi sarebbe l'altra grande? Ho fatto una brutta fine a sta ragazzina, eh. Chi sarebbe? Sua sorella? Qualcuno? Qualche suo familiare? Altre munizioni per la nostra bellissima arma. Che ci ha salvato il culo tante volte. Non avevo più niente qua, no? Che a quale mi sapeva una porta. Andiamo avanti, saliamo sopra. Ok, questa sicuramente si alza, scommessa. Mi sapevo. Che senza munizioni si va. Questo Lucas non lo sopporto più, lo hanno anche messo a capo del team dicendo. che credo di amare a persoare. Continua a chiedermi perché io lavorato a Stanford con un master di microbiologia e debba lavorare su un segno da si. In effetti, non fa altro che giocare con le nostre piastesse cavi, facendole combattere una con tutto l'altra, effettivamente inutili. e fuori di testa non ho alcune idee da poter salire. Andiamo a facer qua. Uh, che granata. Ci può sempre salire, essere utile. Utilizziamo le munizioni normali nel momento. Ok. Ok. Chi è sta cosa? Che cos'è? Che cosa stai facendo? Ovviamente noi non sa che siamo vivi. Eh, questa la sono mangiata. Eh, ma qua sempre sto testo come un russo. Sicuramente automaticamente. Vediamo. E ora? E ora? Oh, cazzo! Lucas! Cazzo! 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 scoperti ho fatto fuori tutti i ricercatori della connection la connection salviamo ok eh non se l'ha aspettato se lo siamo vissuti abbiamo aperto un'altra porta vabbè sarà quella di sotto vabbè andiamo a prenderlo tanto ci sta aspettando sicuramente ma che c'è bella stai calmo stai calmo ma come cazzo è che sei vivo eri morto abbiamo le tue email sappiamo che passi informazioni questi non sono affari che ti riguardano chris molte persone là fuori vogliono sapere della piccola ivi molte persone e se alla connection se lo venissero a sapere non so se te la farbbero passare liscia questi sono cazzi miei me ne preoccupo io tu avrai altro a cui pensare tra poco eh manda quello che vuoi tanto uuuu ma che è si è sceso sul campo è sceso che scherzo ciao ma che è io ma io no non posso crederci credici è finita no non credo proprio piantala e accettala a tua fine, Lucas ti piacerebbe vero allora è così e abbiamo un problema qui infezione a livelli critici dimmi qualcosa che non so che sta diventando ho una notizia per te sei quello che fa il crudo devi procedere con prudenza estrema prudenza no ma non mi dire come se non lo fossi stato finora che cosa sta succedendo che schifo è una larga che ora si può da merda ah ho parlato assai è difficile ammazzare no è difficile avere che sta di cazzo che che ha no, 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 no assai no 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 oh madonna oh ce l'abbiamo fatta mi sa tanto comunque dai aspettavo non si parla mai assai fine dei giochi ci ha fatto scappare e mi sa tanto che abbiamo finito chris trasferimento dati quasi finito lucas è morto come lo fermo devi togliere la corrente al server ci deve essere un trasformatore che ti la via più semplice mi piange il cuore la situazione che ha avuto cose solo ha fatto questo allora ho finito muro perimetrale pronto e operativo bene credi sia andata bene non per loro purtroppo ma il micetta è contenuto spero siano le ultime vittime di evi me lo auguro chris una chiamata per te ti aspettano al capo basi ok sto arrivando cioè questo è un super soldato un pugno di mazzapà c'era assurdo l'hanno fatto questo finisci e questo DLC è finito ragazzi è durato presso che un'ora e mezza niente pochissimo ragazzi il DLC Nota Hero finisce qui ci vediamo con il prossimo episodio con End of Zoe la fine di Zoe se pensate di averle viste tutte vi sbagliate di grosso perché con questa DLC ci divertiremo ci divertiremo veramente tanto restate sintonizzati per il prossimo episodio ciao a tutti